In questo tutorial vediamo delle espressioni numeriche risolubili attraverso semplificazioni di radicali. Partiamo da questo primo esercizio. Come prima cosa fisso l'attenzione sul primo termine. Abbiamo radice sesta di π più 1 alla sesta. Possiamo semplificare la radice sesta con la potenza 6 e, visto che l'indice della radice è pari, dobbiamo essere sicuri che l'argomento della radice sia una quantità maggiore o uguale a 0. π più 1 certamente è una quantità positiva e allora scrivo π più 1. Se questa quantità fosse stata negativa avrei dovuto scrivere l'argomento in valore assoluto. Passo ora al secondo termine. Abbiamo radice quinta di meno π alla quinta. Possiamo semplificare la radice quinta con la potenza 5 di π. Quello che resta è meno π. Più per meno abbiamo meno e poi ricopio π. Passo ora al terzo termine. Come prima cosa mi conviene scrivere 4 come potenza di 2 e quindi scrivo radice quadrata di 3 alla sesta per 2 alla seconda. Osservo ora che ho π e meno π. Sono opposti e li semplifico. Quello che resta è 1, poi più. Qui all'interno posso applicare le proprietà delle potenze e mettere in evidenza tra l'esponente 6 e l'esponente 2 un 2 e quindi scrivo radice quadrata, metto delle parentesi tonde, tutto quanto alla seconda ed ottengo 3 alla terza per 2. Osservo che 3 per 2 è pari a 6 e ottengo di nuovo 3 alla sesta e poi 2 alla seconda ho proprio 2 alla seconda. Posso ora semplificare la radice quadrata con la potenza 2. L'argomento della radice di indice pari è positivo quindi posso ricopiarlo così com'è ed ottengo 1, 3 alla terza è pari a 27 per 2. 27 per 2 ottengo 54 più 1 e come risultato si ottiene 55. Passiamo a questo secondo esempio. Per poter semplificare questo radicale dobbiamo fissare l'attenzione all'interno del radicale. Sia a numeratore che a denominatore dovremo mettere in evidenza. E allora scrivo radice cubica a numeratore tra 3 alla quattordicesima e 3 alla quarta posso mettere in evidenza un 3 alla quarta che moltiplica applicando le proprietà delle potenze devo scrivere 3 alla decima. Infatti 3 alla quarta per 3 alla decima sommando gli esponenti si ottiene di nuovo 3 alla quattordicesima. Poi più 1. Infatti 3 alla quarta per 1 dà proprio 3 alla quarta. Passo ora a denominatore. Tra 3 alla ventesima e 3 alla decima metto in evidenza 3 alla decima che moltiplica, applico le proprietà delle potenze. 20 meno 10 ottengo 10. Quindi devo scrivere 3 alla decima. 3 alla decima per 3 alla decima sommando gli esponenti ottengo proprio 3 alla ventesima. E poi più 1. Infatti 3 alla decima per 1 ottengo proprio 3 alla decima. Osservo ora che ho un fattore comune a numeratore e a denominatore. 3 alla decima più 1 che posso semplificare. Quello che resta è radice cubica di 3 alla quarta fratto 3 alla decima. Applico ora le proprietà delle potenze. Tolgo 3 alla quarta e scrivo 1 e 10 meno 4 ottengo 6 e quindi scrivo 3 alla sesta. Quello che resta è radice cubica di 1 fratto 3 alla sesta. Osservo che scrivere 1 fratto 3 alla sesta è come scrivere radice cubica di un terzo tutto quanto alla sesta. Infatti 1 alla sesta è proprio 1. Posso ora semplificare la radice cubica con il 6. 6 diviso 3 ottengo 2 e allora ottengo un terzo elevato alla seconda, ossia un nono. Passiamo a questo terzo esempio come prima cosa fisso la tensione all'interno del radicale. Mi conviene scrivere 4 e 8 come potenza di 2. E allora scrivo la radice cubica di 2 alla quarta. Questo 4 lo scrivo come 2 alla seconda elevato alla settima, poi più 2 alla decima fratto. Questo 8 lo scrivo come 2 alla terza elevato alla terza più 2 alla quinta, poi più. Questo 8 lo scriviamo come 2 alla terza tutto quanto alla quarta. Questo 4 lo scriviamo come 2 alla seconda elevato alla quinta. Ora applico potenza di potenza, 2 per 7 ottengo 14. Quindi posso cancellare tutto e scrivere 2 alla quattordicesima. qui abbiamo 2 alla terza alla terza. Qui abbiamo 2 alla terza alla terza, quindi applicando potenza di potenza moltiplichiamo 3 per 3. Allora cancello tutto e scrivo 2 alla nona. Qui moltiplico 3 per 4 e otteniamo 12 e allora posso cancellare tutto e scrivere direttamente 2 alla dodicesima. Infine abbiamo 2 per 5 che è pari a 10 e allora cancello tutto e scrivo 2 alla decima. Ora qui posso applicare le proprietà delle potenze. Semplifico 2 alla decima e 12 meno 10 è pari a 2 e allora tolgo il 12 e metto potenza 2. Per quanto riguarda questa prima parte, sia a numeratore che a denominatore devo mettere in evidenza e allora vado a scrivere radice quarta. Tra 2 alla quattordicesima e 2 alla decima posso mettere in evidenza 2 alla decima che moltiplica 2 alla quarta più 1. Infatti applicando di nuovo le proprietà delle potenze 10 più 4 otteniamo 14 e 2 alla decima per 1 otteniamo 2 alla decima. Fratto a denominatore tra 2 alla nona e 2 alla quinta possiamo mettere in evidenza 2 alla quinta che moltiplica 2 alla quarta più 1. Infatti 5 più 4 è pari a 9 e riotteniamo il primo termine e 2 alla quinta per 1 otteniamo di nuovo 2 alla quinta. Posso sviluppare questa potenza e scrivere più 4. Osservo ora che abbiamo a numeratore 2 alla quarta più 1 e abbiamo 2 alla quarta più 1 anche a denominatore e allora questi due fattori li possiamo semplificare. Posso effettuare anche una semplificazione in verticale applicando le proprietà delle potenze. Semplifico 2 alla quinta e 10 meno 5 è pari a 5 quindi tolgo il 10 e scrivo 5. Quello che resta è radice quarta di 2 alla quinta più 4. 2 alla quinta è pari a 32 più 4 ed ottengo 36 e allora posso scrivere radice quarta di 36. 36 lo posso scrivere come potenza di 6 e quindi radice quarta di 6 alla seconda. Semplifico ora la potenza 4 e quindi scrivo 2 con il 2 di 6. Quello che resta è radice quadrata di 6. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sul primo termine. Conviene scrivere questo 9 come potenza di 3 e allora abbiamo radice quarta di 3 all'ottava fratto 3 alla seconda tutto quanto alla seconda. Posso applicare potenza di potenza quindi 2 per 2 pari a 4 e allora cancello tutto e scrivo 3 alla quarta. Poi più radice quadrata. Questo 25 conviene scriverlo come potenza di 5 e quindi 5 alla seconda tutto quanto alla quarta. Poi meno 5 alla terza fratto 5 alla settima meno 25 lo scriviamo come potenza di 5 ossia 5 alla seconda per 5. Ora a primo termine posso applicare le proprietà delle potenze. Semplifico 3 alla quarta e 8 meno 4 ottengo 4. abbiamo così radice quarta di 3 alla quarta. Poi più radice quadrata. Eseguo questa potenza di potenza. 2 per 4 ottengo 8 e quindi abbiamo 5 all'ottava meno 5 alla terza fratto 5 alla settima meno 5 alla seconda per 5. A primo termine semplifichiamo la radice quarta con la potenza 4. Quando abbiamo quello che resta è 3. Per semplificare questo radicale a numeratore e a denominatore dovremo mettere in evidenza. In particolare a numeratore tra 5 all'ottava e 5 alla terza mettiamo in evidenza 5 alla terza che moltiplica 5 alla quinta meno 1. Infatti applicando di nuovo le proprietà delle potenze 3 più 5 otteniamo 8 e riotteniamo il primo termine e 5 alla terza per 1 otteniamo 5 alla terza. Tra 5 alla settima e 5 alla seconda mettiamo in evidenza 5 alla seconda che moltiplica 5 alla quinta meno 1. Infatti 2 più 5 otteniamo 7 e riotteniamo il primo termine e 5 alla seconda per 1 otteniamo 5 alla seconda per 5. Osservo ora che a numeratore e a denominatore abbiamo lo stesso fattore 5 alla quinta meno 1 che possiamo semplificare. Possiamo anche semplificare in verticale applicando le proprietà delle potenze. Togliamo 5 alla seconda e 3 meno 2 è pari a 1 quindi quello che resta è 5. Abbiamo così 3 più 5 per 5 è pari a 5 alla seconda e quindi scrivo radice quadrata di 5 alla seconda. Semplifico infine la radice quadrata con la potenza 2. Abbiamo così 3 più 5 ed otteniamo come risultato 8. E con questo termino il tutorial su espressioni numeriche risolubili attraverso semplificazioni di radicali.